Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Alert TV Parla. Siamo qua nuovamente per parlare della mod zombie U.M. su Black Ops 3, per continuare un pochino la streak di record che sono stati fatti, in questo caso non io in singolo, bensì in co-op, col buon Sanyo, che saluto, che in questo game si chiamava Il God, ma tranquilli, in seguito il nome è stato cambiato in Il Manesco, perché, se Sanyo si arrabbia, vi arriva una cinquina dritta in faccia. E a riguardo qua siamo con un round 151 in due su Origins, che è stata una cosa un pochino strana, perché è un game che ho letteralmente giocato per l'interezza io o il bastone del ghiaccio, mentre Sanyo utilizzava ogni tanto la Brutilde per uccidere i Panzer, anche se c'è da dire che qualche round gli ho passato il bastone, perché giustamente si stava annoiando a morte, dato che questa strat, per quanto molto veloce, ai round alti è chiaro che un round potrebbe durare anche sui 12-15, o nei peggiori dei casi anche 20 minuti, e dopo un po' a stare fermi e vedere gli zombie che muoiono, ci sannoia veramente tanto, per quanto io abbia fatto in questa partita veramente tanti, ma tanti XP, e la quest per il livello 1000, anche su questa mod, prosegue molto molto bene. Purtroppo questo game va un attimo a replicare quello che è successo anche su The Rise and Rack in singolo, perché siamo arrivati al 151, entrambi in flawless, di cui siamo molto molto contenti, ma posso dirvi che inizialmente il piano era di fare addirittura un round 170-180, poi avremmo comunque continuato chiaramente fino a disconnessioni, errori o altre cose, anche se stavamo già un pochino accusando il colpo, però purtroppo l'errore ci ha bloccato, anche se siamo estremamente soddisfatti della partita, sei con il record precedente che era del buon Moretti e Frizi che saluto, e a circa sul 79. Noi gli abbiamo battuto il record, non per volontà diretta, bensì perché stiamo facendo piano piano tutte le mappe, e cerchiamo di fare il round più alto possibile, e come detto prima, ci ha bloccato l'errore classico del macchinino per comprare le munizioni di questa mod, che insieme a tante altre cose, sembra far crashare. A riguardo rispetto al mio game di The Rise and Dracke, qua abbiamo preso molte molte precauzioni, per quanto riguardava cercare di minimizzare il più possibile questo errore, o comunque altri crash di sconnessioni simili, che sia questo errore del macchinino, che sia il G-Spawn, che sia una connessione interrotta, ci sono tante cose che ci possono bloccare. Per dire inizialmente avanti si è attivato il Widow's Wine, che purtroppo in co-op non sempre funziona benissimo, quindi può capitare di ricevere questo perk, o dal Wunderfits, uno dei peggiori di casi con sfiga, anche dalla GAM Collezione Completa, cosa che a me purtroppo è capitato, anche se gli zombie ci colpiscono veramente poco con questa strategia, quindi la questione di esplosioni del Widow's è un pochino ridotta, per quanto comunque è una possibilità in più ai round alti, che qualcosa vada storto. Altra cosa che invece abbiamo totalmente eliminato, è stato lo scudo, che per quanto è una scelta secondo me un po' azzardata, vi ricordo che appunto sul mio game di The Rise and Dracke, sono un crash troppo più andando a comprare lo scudo, quindi abbiamo pensato che un'interazione in meno, che sia lo scudo o altre cose, potrebbe un attimo aiutarci, e secondo me questa cosa un pochino ci ha dato una mano, perché il game è durato circa 16 ore, e anche il mio game in singolo su The Rise and Dracke, era circa sulla stessa durata, se non forse un'oretta è qualcosa in meno, per cui per quanto siamo crashati comunque a un round abbastanza alto, secondo me più di così qualcosina si può fare, ma a un certo punto l'errore arriverà per forza, per quanto comunque noi abbiamo usato tanti round delle Gabblegam, piuttosto che comprare le munizioni sempre dal macchinario per terra, che per quanto molto molto comodo, sappiamo che dopo diverso tempo, potrebbe causare dei problemi. Voglio anche aggiungere, giusto per farsi due risate, che il buon sogno poi ha replicato lo stesso identico game in singolo, facendo anche world record di circa un round preciso, perché ha raggiunto il round successivo, qui di conseguenza ha fatto world record, tira giù il macchinario, e crasha per lo stesso identico errore, che l'ha crashato anche il giocatore precedente, perché questa problematica sembra colpire veramente tante tante mappe, e non sappiamo se è una questione di arma che stiamo utilizzando, perché anche le Mustang danno problemi simili, e anzi quelle per dire fanno G-spawn in altre mappe, per cui già stare veramente tanto attenti, e penso che una buona dose di culo possa fare la differenza, anche se appunto se un player ha fatto un round, e arriva un altro giocatore che fa giusto un round preciso in più, e crasha comunque per lo stesso identico errore, non voglio dire che quello è il limite di round, ma più di così è molto difficile fare, a meno che qualcuno non trovi un metodo totalmente diverso, per cercare di fare più round possibili, però diciamo che con questa mod il macchinario per comprare le munizioni, è forse una delle cose più forti e comode in assoluto, come si faceva anche per dire su Cold War, al lancio comprando i colpi della Reagan, dalla cassa di munizioni, quindi totalmente eliminare questa meccanica, per cercare di crashare il più tardi possibile, ci si potrebbe pensare, ma bisogna ragionarci e testare veramente veramente tanto, c'è una toglia che al momento Origins è totalmente eliminata dalla nostra lista, come anche altre mappe che vedrete in seguito, pian piano non dico che vogliamo prenderci tutti i world record, perché mi sembra esagerato, e come dico sempre è una classifica comunque poco giocata, che stiamo facendo anche giusto per divertimento, e per come al solito livellare con questa mod, che ci sta piacendo veramente veramente tanto, però come round 151 in 2, per niente per niente male. Qui ragazzi, come sempre per chi sta giocando Black Ops 3 su PC, vi invito caldamente a provare questa mod chiamata Ultimate Experience Mod, UM, di cui trovate il link in descrizione, e per chi vuole cimentarsi in qualche record, come sempre l'importante è che le classifiche, siano piene di player italiani, quella cosa che ci piace veramente tanto, chiaramente anche per altre classifiche, ma in questo caso il tryhard su questa mod, UM, a noi ci sta prendendo veramente tanto, e ci stiamo divertendo, per quanto ovviamente l'estratta la Black Ops 3, non è che siano totalmente varie, molto spesso quando si ha potenzialmente colpi illimitati, potendoli comprare, il camping nelle zone di spawn più veloce, è 99 volte su 100, l'estratta migliore in assoluto. Il video quindi ragazzi si conclude qui, spero come sempre che vi sia stato utile e vi sia piaciuto, come sempre trovate in descrizione tutti quanti i miei social se volete, Instagram, Twitch e il canale Discord, ci vediamo come sempre, a un prossimo video, un abbraccio, ala.